Ciao a tutti, allora io rappresento l'associazione Leonardo di Venezia che si occupa di disabilità, di ragazzi con disabilità lieve e dove vengono inseriti in vari laboratori attraverso di volontari oppure in realtà già esistenti per aiutarli a vivere una normalità. E basta, se volete contattarci 320 6571 208. Grazie. Grazie.